Ok, stiamo per imbarcarci nella nave. Scusate per la dialettica di prima, ma con il dialetto calabrese non si capisce proprio niente. Ora siamo usciti dal traghetto. Purtroppo la 145 costava troppo e ho comprato una sua cugina francese. I carri scudo non lamentatevi se uso questi, però vista l'età del treno ho preferito usare dei carri ancora più vecchi. E niente, il treno sta uscendo da... Grazie a tutti. Grazie a tutti.